Ok, abbiamo qui a seguire i Jumping Jaspers che si preparano a sfidare i Billsky Bouncers Sì, esatto, sono Mitch Allora che ve ne pare? Sono tornato per restare Tornato da dove? Beh, da... Chiudi il becco, Art Bel posto Siete pronti a battervi? Ehi, non ti devi rimpinzare di dolci prima di una partita Non darmi ordini, è la mia vita Ehi, vado un attimo in bagno Perché? Ho una lezione di tennis Ok Beh, visto che sei stata sarcastica con me ora non ti do il permesso di leccare il mio gelato Ehi, guardate adesso che cosa faccio Ehi, chi è che ha tirato quella palla? Ok, sono pronte le squadre Forza, stai bene Ehi, ehi, che succede? Non la smette di strozzarvi Oliver! Oliver! Oliver, riprenditi Insomma Ce l'hai tre persone pronte a giocare o no? Un secondo Harry, devi entrare in squadra con me Io lo farei volentieri Ma Ray non vuole che usi i superpoteri per queste cose Ray non è qui Ma Charlotte, sì! E allora? Allora, se entro in squadra con te lo sai che mi guarderai in quel modo Cioè quale? Allora, vogliamo giocare a Dojeline oppure preferite restare qui a baciarvi? Che dite? Siamo solo cari amici! Oh, oh, solo cari amici? Mi chiamo Harry Arti Ho un gran bel mucchio di cari amici Do 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 Ok Lanziamo le palle Sì! E non si deve piangere Forza! Si comincia! Vinciamo noi Se vi fate colpire da una palla siete fuori Se lanciate una palla e un avversario la prende siete fuori E quando tre giocatori sono fuori avete perso Quando dico Doj Si comincia! Ehi, dove è finito Harry? Ok Pronti! Doj! Dai, suori! Dai, suori! Sei fuori e tu anche E ora siamo rimasti uno contro uno A casa! E i Jumping Jaspers passano al round successivo Sì! Ce l'abbiamo fatto! Sì! Fai un attimo! Facciamo festeggiare! Secondo round! Sì, ragazzi! Secondo round! E vedrai che arriveremo in finale! Oh, mamma! È stato pazzesco! Eccola lì!